Questa mattina avete presentato il report delle attività relative agli stati generali della mobilità. Quali saranno le linee guida da adesso in avanti? Siamo molto impegnati nel realizzare in particolare tanto il piano urbano della mobilità sostenibile quanto il piano del traffico, che sono due programmi che stanno andando avanti in parallelo e che vedranno delle cose importanti come la realizzazione del trasporto pubblico di massa in città, che è cosa che a Pescara manca, della riconnessione delle piste ciclabili, di una migliore organizzazione in generale del traffico in città, ma questo si collega anche a progetti strategici che abbiamo concepito anche proprio pensando a una diversa mobilità come innanzitutto l'area del parco centrale, la cosiddetta ex area di risulta e anche tutto il progetto che riguarda un campus diffuso nella zona sud con una grande porta di accesso alla città in cui si realizzerà una piena intermodalità tra tutti i mezzi di trasporto e di mobilità. Linee guida che lei ha espresso anche nella lettera che è stata diffusa nei giorni scorsi, a cui è legato il suo mandato in qualche maniera? In quella lettera chiedo semplicemente di coinvolgere maggiormente la città e di essere più determinati su questi progetti strategici che sono davvero quello che ci consente di andare verso una svolta, io credo, di vivibilità e di attrattività della città, quindi semplicemente questo. Tra i suoi colleghi di giunta e nella maggioranza vedo unità di intenti su quello che è il piano che ha disegnato per Pescara 2027? Io penso di sì, abbiamo unità di intenti, ci sono naturalmente come è anche normale giusto che sia dei distinguo sulle priorità, su fare una cosa prima dell'altra oppure come farla, cosa di cui discuteremo. Quello che io ritengo importante è che quando si discuta di queste cose ed è il senso profondo di quella lettera abbiamo sempre in mente una strategia complessiva che è quella del verso Pescara 2027.